Ben ritrovati da Piercarlo Fabi con il consueto appuntamento con il TG Plus, il telegiornale di approfondimento di Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre. Il telegiornale di approfondimento che nell'appuntamento di oggi si dedicherà da un lato alla situazione del lavoro e a come il lavoro entra dentro la campagna elettorale dei vari partiti politici, se ci entra e cercheremo di capire anche quali sono i gruppi che stanno cercando di proporre le loro idee in merito agli interventi da fare sul mondo del lavoro. Dall'altro analizzeremo la campagna elettorale partendo dalla situazione del centrodestra, vedendo come sono effettivamente cambiati i rapporti di forza tra Fratelli d'Italia, la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia per poi allargare anche il campo a quelle che sono le altre coalizioni. La campagna elettorale è in corso, ci accompagnerà fino al prossimo 25 settembre e quindi noi dobbiamo cominciare anche a capire effettivamente come sta andando. Questi i temi del nostro approfondimento di oggi, cominciamo dal lavoro e lo facciamo con il nostro primo ospite Alessandro Mastrocinque, presidente del patronato Inac Cia. Gli diamo il benvenuto su Cusano Italia TV. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi. Presidente, voi in quanto patronato avete presentato un decalogo delle priorità in merito al lavoro che contiene tutta una serie di proposte. Io prima di arrivare su quello che parte da delle criticità che voi ovviamente mettete in evidenza, le faccio una domanda molto più generale sull'andamento dell'attuale campagna elettorale. Come sta venendo trattato dal suo punto di vista il tema del lavoro, la condizione dei lavoratori, la condizione dei pensionati anche nel dibattito politico che vede nelle ultime settimane? Ma guardi, noi ovviamente come patronato Inac di Cia Agricoltori Italiani siamo attenti su questi temi e osserviamo evidentemente quello che capita nella politica e nelle proposte. Se ne posso dare una prima impressione, non sono dei temi che sono tra i primi punti all'ordine del giorno delle proposte che i partiti propongono. Anche per questo noi ci siamo spesi e pensiamo che come patronato della Cia dobbiamo porre l'attenzione a questi temi e queste proposte che abbiamo fatto. Perché è un tema importante e da un giudizio generale, spermo restando che noi non esprimiamo appartenenza politica, riteniamo che i due temi che lei mi ha invitato a fare una riflessione chiaramente io non le vedo ad oggi tra i primi punti dell'agenda politica dei partiti, anzi li vedo sostanzialmente come marginali o comunque come lanci spot evidentemente laddove ci sia stato qualche tipo di proposte. Questo è particolarmente preoccupante, Presidente, alla luce dei dati che voi portate insomma in una sorta di prologo di quello che è poi il vostro decalogo. Dati che sottolineano come ci saranno, ci sono già ma ci saranno soprattutto più avanti nei prossimi mesi e anni, milioni di persone che soffriranno una condizione economica particolarmente difficile. E il dato che a me ha colpito di più in un paese come il nostro in cui si parla tantissimo di conflitto generazionale è che invece voi mettete in evidenza come questa crisi riguarderà tanto i giovani che avranno difficoltà a trovare spazio in un mondo del lavoro che sia equo e dignitoso per loro quanto gli anziani che avranno lo stesso problema per quanto riguarda le loro pensioni. Mi viene da dire, e su questo vorrei una sua prima riflessione, c'è da cambiare un paradigma quasi culturale quando si parla di lavoro allora? Ma assolutamente perché noi dall'analisi che abbiamo fatto e sviluppata nelle nostre proposte abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione soprattutto questo tema che lei che le spiega perché evidentemente oggi da come è impostata la questione delle pensioni le pensioni future saranno molto molto minore delle pensioni di oggi soprattutto per quanto riguarda alcune categorie di questo paese e poi ritornando anche alla riflessione di prima, anche l'attenzione sul mondo del lavoro per i giovani è un'attenzione minima e marginale perché anche i giovani si troveranno ad affrontare un mondo del lavoro sempre più complicato ed evidentemente per chi ce la farà, per quei pochi che ce la faranno, si troveranno anche ad avere delle pensioni che non saranno sostenibili non potranno essere sostenibili e degni di un paese civile perché il paradigma culturale di cui lei parla è un tema serio in questo paese le faccio un esempio pratico, le pensioni minimi in questo paese dovrebbero essere almeno di 650 euro al mese da quello che ci dice l'Europa ma questo tema in questo paese non è stato mai adeguato, noi oggi abbiamo delle pensioni davvero oltre a di sotto della soglia del minimo europeo e questo è un tema su cui bisogna lavorare, poi noi abbiamo sviluppato delle proposte migliorative ma partiamo da lì, se noi non ci rendiamo conto in un paese del genere con una crisi stringente partendo dall'energia, su temi arcinoti, ha anche la capacità di spesa delle famiglie non abbiamo la capacità di capire che nel nostro paese, soprattutto le facce di popolazione più anziani fanno anche da ammortizzatore sociale per le famiglie e se noi non adeguiamo le pensioni, secondo quello che ci dice l'Europa perché siamo in un contesto europeo e non riusciamo ad avere questa mentalità è chiaro ed evidente che noi ci troveremo da qui a pochi anni ma già il tema è attuale perché noi abbiamo fatto le proposte riguardano l'attualità e anche delle questioni che guardano anche un po' più al futuro è chiaro ed evidente che questo ci pone davanti a una condizione di difficoltà soprattutto di tenuta delle famiglie, tenuta di capacità di spesa delle famiglie perché i dati che stiamo guardando, i stipendi che non aumentano solo in questo paese l'inflazione che sale e siamo tra i paesi che ha il livello di inflazione una percentuale di inflazione più alta le previsioni che riguardano soprattutto i beni di prima necessità tra cui il pane, la cosa che mi viene in mente in questo momento di aumenti stratosferici, i beni di prima necessità che vanno sulla nostra tavola è chiaro ed evidente che se viene meno anche quella capacità che oggi gli anziani riescono a dare una mano alle nostre famiglie ci ritroveremo davanti a un tema sociale serio in questo paese da affrontare non possiamo far finta di tirarci all'altra parte Assolutamente sì perché i temi di cui si parla di più in questa campagna elettorale potrebbero diventare soltanto degli elementi peggiorativi di una condizione che è già grave, parlo del caro energia, parlo delle ricadute economiche della guerra in Ucraina, del conflitto in Ucraina quelli sono elementi su cui sì è necessario ovviamente intervenire anche con un dialogo con l'Europa ma se prima anche non si interviene su dinamiche strutturali interne al nostro paese tutto questo potrebbe trasformarsi in una valanga abbastanza inarrestabile poi sotto tanti punti di vista Guardi, non voglio interlompere ma io ne faccio un'altra riflessione io ho avuto l'impressione, abbiamo l'impressione che nel nostro paese da un po' di tempo a questa parte si stanno mettendo in campo delle misure che vanno ad aiutare le famiglie e fin qui tutto bene, ma noi dobbiamo cuocci il problema che questo non diventa un elemento strutturale noi dobbiamo, parafrasando un detto che conosciamo un po' tutti è vero che chi ha bisogno, perché la fascia di popolazione di soggetti in una soglia di povertà sta aumentando sempre di più dare un segnale subito, ma non dare soltanto il pesce ma imparare, fare in modo che imparino a pescare cioè chi ha al di sotto di una certa soglia di povertà va bene dargli degli aiuti e dei contributi ma per il resto dobbiamo immaginare delle misure strutturali che facciano in modo che le persone si possano mettere in moto e trovano anche uno sbocco nel mondo del lavoro ma questa è anche una questione di dignità delle persone, delle famiglie degli uomini e delle donne che lavorano e si aspettano di lavorare in questo paese la formazione è un elemento straordinario investiamo sulla formazione per fare in modo da preparare i soggetti al mondo del lavoro e poterli inserire direttamente perché tante volte vediamo persone inserite nel mondo del lavoro con page e cose di questo tipo che sicuramente non sono un valore aggiunto perciò va bene il pesce quando si è in difficoltà ma bisogna mettere in campo gli strumenti necessari affinché le persone siano autonome, è una questione anche di dignità e riescono a inserirsi nel mondo del lavoro dobbiamo avere la capacità di formare le persone e di inserirle nel mondo del lavoro questo è molto importante Da qui Presidente, su questo io le faccio l'ultima domanda nel decalogo che comprende la pensione di equità l'introduzione del salario minimo anche questo tema al centro comunque di dibattiti all'interno del mondo politico da qui la vostra nota sul reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza sul quale si discute sembra almeno nella politica in piena campagna elettorale soltanto in termini di sì o no voi parlate di un reddito di cittadinanza che va rimodulato che bisogna semplicemente rintervenire su quelle che sono le dinamiche che sostanzialmente portano a riattivare il percorso di introduzione al mondo del lavoro di chi magari quel lavoro lo ha perso si trova nella difficoltà di non averlo è esattamente quello che le dicevo perché oggi è una misura importante che va ad intercettare le difficoltà delle persone ma non può diventare uno strumento che va oltre una certa soglia anche di spazio temporale perché se facciamo, diamo questa impostazione è chiaro ed evidente che non ci sarà più la voglia di mettersi in gioco e lo stiamo vedendo anche nelle attività commerciali che vanno dall'agricoltura, dal commercio, alla ristorazione dove c'è una forte difficoltà di avere a disposizione forza lavoro perché c'è una dinamica che in qualche modo questo lo rende molto più complicato perciò quella deve essere una misura che va a intercettare le difficoltà ma quelle vere, quelle vere perciò noi abbiamo fatto una nota su questo punto dove parliamo di controlli non più controlli a campione ma controlli veri, reali su chi ha realmente diritto ad avere un reddito perché vive in condizioni di difficoltà e chi invece probabilmente si infila nelle maglie larghe della pubblica amministrazione e ne approfitta e questo va a discapito del dibattito che se stiamo guardando e stiamo ascoltando in questi giorni ce lo fa capire evidentemente questo va a discapito di chi realmente vive in condizioni di difficoltà e poi ci sono sempre i soliti furbetti noi perciò abbiamo fatto una nota dove parliamo di controlli ed evidentemente di poi modificare la norma ma fare un ragionamento più ad ampio respiro e vedremo effettivamente come andranno le cose continueremo a monitorare la campagna elettorale in questo senso vedremo se il lavoro giocherà un ruolo crescente ce lo auguriamo quantomeno anche perché veramente i dati forniti dal vostro comunicato sono abbastanza preoccupanti decisamente preoccupanti io intanto la ringrazio e le strappo la promessa magari di tornare a disturbarla per un ulteriore intervento e un commento se effettivamente ci fosse qualche segnale da questo punto di vista e qualcosa da commentare in campagna elettorale Presidente Assolutamente io vi ringrazio per avermi ospitato per aver dato voce al padronato della CIA ma chiudo con questa osservazione e do la disponibilità evidentemente a starci sui temi noi come padronato diamo servizi a tante persone a milioni di persone attraverso i nostri uffici ed intercettiamo il marcontento intercettiamo le difficoltà intercettiamo le esigenze delle persone noi ci siamo posti in una condizione di essere soggetti interlocutori che fanno da tramite tra le esigenze delle persone e elaborazione di proposte e anche di rivendicazioni politiche noi facciamo questo ruolo perché abbiamo a cuore la difficoltà delle persone che entrano nei nostri uffici e le difficoltà delle famiglie e soprattutto anche in un altro tema ne rubo tre secondi anche delle donne perché il tema delle donne in questo caso è la parità salariale delle pari opportunità il mondo femminile in questo paese quando prima parlavamo di cambio di paradigma è un altro tema su cui noi ringrazio davvero il presidente Alessandro Mastrocinque del patronato Inaccia grazie davvero presidente per aver accettato il nostro invito grazie e buon lavoro buona serata a lei e buon lavoro a lei la campagna elettorale i temi del lavoro li sta trattando insomma abbiamo sentito il presidente in modo forse abbastanza superficiale vedremo se effettivamente le cose cambieranno però vedremo vediamo adesso analizziamo cerchiamo di capire anche effettivamente quali sono gli equilibri all'interno delle varie forze politiche che si contenderanno appunto le elezioni del prossimo 25 settembre lo facciamo con Aldo Torchiaro giornalista del Riformista buonasera 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 vorrei partire con te dall'analisi della situazione del centro-destra perché anche oggi per l'ennesima volta mi viene da dire durante il confronto al forum di Cernobbio ci sono stati vari scambi vari siparietti anche tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che spendono tantissime parole e tantissimi comunicati ufficiali nel dire che vanno d'amore e d'accordo che insomma c'è una comunanza di opinioni oggi addirittura si sono detti diciamo le stesse cose non capiamo non capiamo perché insomma ci fate sempre questa domanda relativa ai nostri rapporti interni però poi quando c'è da marcare una distinzione una differenza da mettere una bandierina non perdono mai occasione tu come stai vedendo la situazione all'interno della coalizione apparentemente così solida ma forse non così tanto in realtà l'hai introdotta la mia risposta perché l'apparenza è solida ma forse la sostanza è gassosa e sono gas che tendono a evaporare di che cosa stiamo parlando oggi le foto non so se la avete se la regia riesce a recuperare quella foto tra quelle di oggi più eloquente questa è di qualche giorno fa però è una delle tante no ma oggi ce n'è una molto eloquente quando Salvini ritorna con il tema delle sanzioni dicendo che le sanzioni stanno penalizzando l'Italia e Giorgia Meloni immediatamente si copre gli occhi si porta la mano sul viso si piega in avanti quasi ad uscire di scena quasi a sottrarsi al focus dei fotografi e quella secondo me è la fotografia plastica della giornata di oggi e che ci fa capire come se Giorgia Meloni è tutta impegnata in una battaglia non facilissima quella della legittimazione quella del recuperare credibilità autorevolezza presso chi? le cancellerie occidentali gli Stati Uniti la Nato l'Europa Bruxelles l'attenzione è tutta rivolta a quello non c'è giornata in cui Giorgia Meloni non garantisca i partner europei ed americani persino con i messaggi che abbiamo sentito in inglese in francese non sa più come dirlo che lingua deve utilizzare e lì Salvini puntualmente le fa da controcanto perché dice no ma le Sanzonia Mosca contro Mosca penalizzano noi vanno riviste vanno ridotte insomma lui lancia il cuore oltre l'ostacolo il cuore di Salvini è con il Cremlino e c'è poco da fare ed è difficile nasconderlo quello che tentano in qualche modo di nascondere è appunto questa propensione che riguarda una parte della maggioranza non tutta secondo me se vuoi un parere sincero da osservatore da analista Giorgia Meloni è affidabile da quel punto di vista cioè lei sulla guerra dal 24 febbraio dice sempre la stessa cosa l'aggressione della Russia all'Ucraina è inaccettabile lei lo dice da sovranista dice noi siamo per il rispetto della sovranità di ciascun popolo sulla propria nazione la dice in questi termini e dunque vede nell'invasione della Russia sull'Ucraina una violenza una violazione sulla sovranità ucraina e in questo garantisce la continuità con la linea atlantista che ha avuto il governo Draghi in Italia il governo Macron in Francia e gli altri diciamo che su questo c'è una frattura vera questa frattura per venire alle cose che dicevi cioè come come si stanno organizzando i nostri nel centro-destra dove c'è aria di vittoria perché i sondaggi sono tutti in quella direzione e si stanno facendo i conti come se fossimo al 26 di settembre e quindi chi fa cosa Giorgia Meloni va a fare la presidente del consiglio e come si dividono i bilancini i pesi i contrapesi del potere del centro-destra questa è la l'audax question cioè tutto quello che stiamo vedendo adesso è un posizionamento tra di loro per capire chi farà cosa e lo abbiamo visto con Salvini che ieri ha detto ma ci vorrebbe un ministero dell'innovazione a Milano sì e Sala gli ha risposto beh va bene il ministero dell'innovazione ma insieme con il Mise a questo punto prendiamone due portiamoci pure il ministero dello sviluppo economico qual è la partita vera Giorgia Meloni fa la premier a condizione che il suo governo sia un governo atlantista europeista pilonato e stabile stabile cioè non vuole fare fuochi d'artificio per un anno e mezzo come invece forse vorrebbe Salvini che tutto sommato è un secondo in questo governo quindi anche lui non può che augurarsi di riguadagnare la scena per tornare con la Lega in testa no poi deve riconquistare i consensi che ha perso Matteo Salvini appunto appunto perché guarda la verità è molto semplice Fratelli d'Italia e Lega sono vasi comunicanti Giorgia Meloni vampirizza Salvini gli sta sul collo e ogni giorno che passa lo vediamo con un saldo invariato tanto scende la Lega quanto sale Fratelli d'Italia e sarà continuamente così Salvini lo sa e soffre diciamo questa questo dualismo obbligato anche perché come dicevamo lui è secondo sul podio ma dunque che cosa sta succedendo che si stanno dividendo già in anticipo quello che verrà i posti del del governo attenzione chi segue Cusano TV lo sa non si parla soltanto di posti di governo e del nuovo Parlamento ma ci sono tra i 50 e i 70 posti di potere in Italia da distribuire quando? Tra novembre e gennaio 2023 parliamo di tutti i CDA di tutte le presidenze delle grandi partecipate statali da Eni a Leonardo a Enel a tutte a Dacea a tutte le altre e sono posti estremamente importanti e interessanti le autorità garante e lì stiamo parlando di un pacchetto di 25 posizioni apicali tra i più alti dirigenti dello Stato chi parteciperà della spartizione di quella torta? Legittimamente siamo in democrazia vige peraltro lo spoil system il centrodestra e i suoi addentellati ecco che c'è una redistribuzione dei poteri ecco che c'è già il toto ministri e qui veniamo al tema di cui ci stiamo occupando con il riformista in questi giorni stiamo cercando di capire come si posizionano le caselle del potere anche perché mi viene da da sollecitarti su una cosa se da un lato c'è questa visione più pacata del futuro governo di centrodestra eventuale di centrodestra dalla parte di Giorgio Meloni questo trova delle difficoltà a sposarsi con la tante volte ripetuta candidatura autocandidatura di Matteo Salvini per la carica di ministro dell'interno appunto appunto perché con l'identikit che facevamo del governo atlantista europeista stabile che dura cinque anni tenendosi lontano dalle tempeste signori questo non ha nulla a che fare con la presenza di Salvini al governo noi lo conosciamo Matteo Salvini può piacere o non piacere è roboante è vulcanico è elettrificato Salvini non è che può stare lì quattro anni silenzioso poi magari agitarsi un po' in prossimità della campagna elettorale no lui è un'altra è un'altra grande gatta da pelare per Giorgia Meloni io che cosa penso e che cosa so e che cosa ho sentito cosa abbiamo registrato che Antonio Tagliani ha chiesto per sé come maggiorente di Forza Italia ministero di grande peso e di grande rappresentanza internazionale del ministero degli esteri sì Tagliani ama diciamo le relazioni con il mondo è stato al Parlamento Europeo per tanti mandati è l'alto rappresentante della politica italiana del Partito Popolare Europeo e quindi le sue relazioni internazionali le sue frequentazioni diplomatiche sono di altissimo livello vuole occuparsene dalla farnesina e ha le carte per farlo sappiamo di Carlo Nordio che è proprio in quota Fratelli d'Italia che sarà il prossimo ministro della giustizia a questo punto senza dubbio perché lo ha confermato Giorgia Meloni e lo ha confermato persino lui stesso diciamo di essere in corsa per questo e la Lega la Lega che comunque è il secondo partito della coalizione centrodestra non può contare su Matteo Salvini al Viminale perché sarebbe un elemento di instabilità perché già alcune diciamo entità hanno fatto sapere di non essere disposte a tollerare le le intolleranze appunto di di Matteo Salvini tra queste entità come le definisco c'è il Quirinale Matteo Mattarella ha detto che Matteo Salvini ha già dato al Quirinale e non è il caso di fare il bis lo ha detto il Vaticano sappiamo quanto è importante il ministero del Papa su questo il Papa Francesco l'attenzione sui migranti e quanto è importante l'attenzione nel mondo cattolico in generale sul tema dell'accoglienza e della solidarietà assolutamente e anche Confindustria ha fatto sapere che insomma se bisogna puntare su un ministro della Lega non può essere Salvini perché perché ci sono due numeri due che sono di grande peso uno si chiama Luca Zaia ed è il Dante causa diciamo dell'opposizione a Matteo Salvini per molti è il futuro leader della Lega e poi c'è appunto Giorgetti Giorgetti che è stato un buon ministro forse un eccellente ministro addirittura con Draghi ha saputo costruire un'intesa trasversale con tutti è molto amato dallo sviluppo economico da Confindustria e dalle parti datoriali in generale insomma dovrebbe ipotecare il Mise e poi c'è il ministerio dell'economia e poi c'è il ministerio del lavoro sono ministeri di grande peso pensiamo a quanto sposta l'Inps pensiamo alla questione reddito di cittadinanza salario minimo sul quale infatti sta battendo la Lega in questa parte della campagna elettorale insomma io penso che alla Lega andrà un ministerio di peso economico importante e che uno andrà a Zaia forse un altro andrà a Giorgetti e Salvini per stare sulla questione la voce voi la fate un'ipotesi sul riformista riformista ha raccolto un'ipotesi molto credibile perché l'abbiamo raccolta in ambienti fratelli d'Italia pensiamo siamo in grado di fare una piccola scommessa su questo pensiamo che a Matteo Salvini vada assegnato la presidenza del Senato la seconda carica dello Stato è la seconda carica dello Stato esattamente ed è una carica stabile che dura cinque anni che garantisce una certa pacatezza da parte del suo interprete protagonista fa di Salvini il vice del Presidente della Repubblica e però e però diciamo quindi gli restituisce un ruolo politico di primissimo piano grande attorevolezza grande prestigio grandi appannaggi da tutti i punti di vista ma gli mette un po' la sordina dal punto di vista della polemica politica della vis polemica quotidiana che è quella che si vuole scongiurare e che appunto Giorgia Meloni vuole mettere un po' al riparo diciamo il suo futuro esecutivo dalle intemperanze di Salvini che tutti diciamo temono da parte sua perché appunto come dicevamo è vulcanico è un è un ragazzo energico è difficile da tenere a base lo abbiamo lo abbiamo visto lo abbiamo visto all'opera effettivamente ce lo ricordiamo e questo significa comunque un segno è stato lasciato noi raccogliamo la scommessa del riformista Aldo e magari torneremo a disturbarti per analizzare per par condicio l'altra parte quindi andare a vedere come vanno le cose sul fronte del centro-sinistra la galassia che un po' si è dispersa tra Movimento 5 Stelle impegno civico Sinistra Italiana Verdi Partito Democratico e analizzeremo anche quella parte prima delle prossime elezioni del 25 settembre benissimo molto volentieri a disposizione grazie mille intanto per il tuo intervento di questa sera grazie a te e a voi Aldo Torchiaro il riformista appuntamento con il TG Plus che termina qui su Cusano Italia TV canale 264 del Digitale Terrestre da Percarlo Fabi il mio augurio di una buona serata e buona fortuna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti